Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati qui ad Analisi Tecnica. Oggi a rispondere alle vostre domande Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi e buon anno. Grazie Federica, un caro saluto a te e a tutti i telespettatori di classe. Andrea direi di iniziare facendo una panoramica di quello che è accaduto in questa primissima parte del 2023 perché si sperava che le borse europee potessero continuare ad essere baciate dal rally di inizio anno ma invece come possiamo vedere gli indici europei oggi sono tutti in negativo. Piazza Fari sta perdendo lo 0,21%, è comunque ben oltre 24.000 punti, 24.800 punti e passa. Per quanto riguarda invece la giornata di ieri, ieri Piazza Fari come dicevamo ha avuto un rialzo dell'1,74% e ha terminato la giornata ai massimi dello scorso aprile. Come sta performando oggi? Abbiamo visto sicuramente in negativo ma cosa sta succedendo oggi? Come mai le borse, a differenza degli altri giorni, quindi i primi giorni di questo 2023, tutte in positivo, oggi tutte in negativo? Cosa sta succedendo? La situazione è molto complicata. Io, come ormai dovrebbero sapere i telespettatori, amo molto essere contrarian. Quando tutti dicevano che il mercato a luglio non avrebbe tenuto i 20.000 punti, sono stato uno dei pochi che invece ha ribadito come fosse un'area di supporto marmitica. E adesso ho realizzato un video sul mio canale YouTube per l'Auto 2023 che soprattutto per il primo semestre non prevede dal mio punto di vista ovviamente un andamento così positivo come invece è stato quello delle prime sedute di questo 2023. C'è però un primo tema da affrontare che è quello del differenziale veramente importante tra mercati europei e mercati americani. C'è questa sovraperformance dei mercati europei che è a dir poco sorprendente. E' vero che i mercati americani sono stati chiusi il 2 di gennaio e noi abbiamo una seduta in più. Però anche ieri c'è stata una seduta molto positiva in Europa e abbastanza in colore seppur chiusa con il segno più negli Stati Uniti. I verbali del FOMC non ci hanno detto nulla di clamorosamente nuovo. Hanno peraltro confermato che nel 2023 non ci sarà alcuna riduzione dei tassi di interesse e purtroppo non ci hanno dato una view sull'entità degli aumenti. Qual è il mio dubbio in questo momento per questo rally che c'è sui mercati soprattutto europei? Che sembra che tutte le negatività che ci portiamo avanti da mesi e l'inflazione, seppur i dati in Germania e in Francia sono stati migliori delle stime, è ancora piuttosto elevata. Ma soprattutto temi come il Covid in Cina non vengono assolutamente considerati. Non che oggi sia un pericolo che possa sconvolgere i mercati, però è come se non esistesse. La curva dei tassi di interesse, il BTP è comunque stabilmente sopra il 4%, giriamo tra il 4,2 e il 4,4 come rendimento nelle ultime sedute, un tempo sarebbe stato visto come un pericolo a causa dell'enorme debito pubblico italiano. Per cui questa luna di miele con i mercati continua oggi, è una pausa fisiologica e consideriamo che i volumi sul mercato italiano sono assolutamente assenti perché domani siamo aperti, ma è l'epifania. Per cui io devo predicare prudenza, però tecnicamente parlando, come ricordavi tu, siamo su un'area di esistenza molto importante, è tra 24.900 e 24.930 punti di FIB. Il superamento di questo livello potrebbe portare addirittura fino a 25.625, 25.990. Questi sono livelli sul futures. Diverso il discorso per il cash, perché qui la resistenza statica da rompere è 25.500 e ovviamente è un po' più alta perché bisogna tener conto dello stacco dividendi. Per cui adesso è un mercato dove mantenere le posizioni rialziste nei portafogli, però io sarei molto prudente nell'aprirne di nuove perché aspetterei una conferma di ulteriore forza da parte dei mercati azionari europei, mentre negli Stati Uniti la situazione è quasi diametralmente opposta. Hai citato tu poco fa la Cina. Sembrerebbe appunto che la paura del ritorno del Covid non stia impattando sulle borse europee. È la stessa cosa per quanto riguarda le borse asiatiche, perché l'Asia in questa giornata corre al treno della Cina che appunto nonostante i contagi da Covid continua nella sua politica di apertura delle attività e dei movimenti dopo appunto questi tre anni di praticamente lockdown. Cosa sta succedendo quindi in Cina e secondo te è un'opportunità quest'anno? Ma allora, c'è da dire che non necessariamente i mercati azionari seguono quello che capita nella cosiddetta mainstream, che è praticamente l'economia reale. Il mercato cinese dai minimi che aveva toccato a fine ottobre sta rimbalzando piuttosto bene. Riguardo alle borse asiatiche devo dire che è molto preoccupante invece la situazione sul Nikkei, perché il Nikkei è su un supporto statico veramente importante. Se dovesse perdere questo livello potrebbe tornare addirittura sui minimi di marzo ed è la borsa asiatica che mi preoccupa di più. Per quello che è il problema Covid devo dire che anche la borsa cinese lo sta quasi trascurando e ovviamente questo è un bene per gli investitori. Speriamo che continui ad essere così anche per i prossimi mesi, perché ripeto la mia paura è che il mercato azionario in questa fase stia avendo una view troppo positiva in generale, per cui tutti i tasselli che al momento non sono a posto, perché c'è ancora un conflitto che comunque è al momento ancora difficile da prevedere quanto potrà durare, che non viene quasi tenuto in considerazione, per cui ci può stare una forza dei mercati azionari, ripeto soprattutto in Europa, però tutti i tasselli o almeno parte dei tasselli ancora sul tavolo devono andare ovviamente a posto perché altrimenti poi il mercato ne pagherà le conseguenze. Per quanto riguarda invece l'obbligazionario, l'abbiamo ricordato più volte durante le nostre dirette, il 2022 è stato un anno particolare sia per l'obbligazionario che per l'azionario, entrambi hanno performato in modo negativo. Quest'anno secondo te Andrea è l'anno dell'obbligazionario? Ma alla regola non dovrebbe ripetersi un anno drammatico come il 2022. Anche perché è stato un caso molto raro negli anni, nella storia, è successo veramente raramente. È successo nella storia, due o tre volte è successo nella storia, sono anni molto particolari. Io lo dico sempre, il 2022 mi ha ricordato per molti versi 2018 dove quasi tutti gli asset finanziari mondiali comunque hanno chiuso in negativo. Io pur non essendo un trader obbligazionario, occupandomi solo di mercato azionario, per me il market mover rimane sempre il decennale americano. Al momento giriamo attorno al 3,70 come rendimento, siamo arrivati praticamente sopra il 4,3% nella seconda metà di ottobre. Credo che, come dicevo prima, non si ripeterà un anno come il 2022, sono moderatamente positivo. Paradossalmente il paese che mi preoccupa di più è sempre l'Italia, perché il debito pubblico è ormai fuori controllo da anni e io credo che paradossalmente, mi ripeto con paradossalmente, la fortuna dell'Italia è che sia too big to fail. Cioè se non fosse un paese così importante, veramente un attacco al debito pubblico italiano potrebbe esserci tranquillamente, perché ci sarebbe probabilmente anche terreno facile. C'è sì la BCE, però non credo che comprerà titoli di Stato italiani come lo scorso anno, semplicemente ci lasciano tranquilli perché metterebbe in crisi l'intero sistema finanziario mondiale, un attacco al debito pubblico italiano. Però, ripeto, rimango moderatamente positivo e credo che una replica del 2022 sia decisamente improbabile. Finiamo questo quadro di giornata andando a dare un'occhiata alla materia prima da cui dipendono molte delle società quotate a piazza affari, ovvero il petrolio. Perché poco prima della chiusura delle borse europee, ieri entrambi i futures sull'oro nero perdevano oltre il 4%. Questo ha impattato in modo negativo su alcuni titoli, come per esempio Tenaris che è scivolata in fondo al Futsimib incassando un ribasso di oltre il 7%. Bisogna preoccuparsi per questa situazione? Quello che è strano è che siamo passati e non torniamo a parlare del futures addirittura in negativo sul VTI, scadenza maggio 2020. Parliamo di tempi più vicini a noi. Abbiamo avuto un massimo nel 2022 quasi a 130 dollari per il futures sul VTI. Adesso siamo vicino ai 70 dollari, attorno ai 73 dollari. La cosa incredibile secondo me è come abbiano sino ad ora tenuto tutto sommato tutti i titoli del settore oil. Anzi Saipem è in rally di periodo, adesso sta iniziando una correzione di breve, ma secondo me è una correzione tecnica, perché finalmente l'ultimo aumento di capitale l'ha portata a nuova vita. Tenaris ci sta che possa avere una seduta così negativa come quella che ricordavi tu nella seduta di ieri, però attenzione che Morgan Stanley, per esempio, prima dell'apertura del mercato aveva alzato il target price da 35 dollari a 42 dollari. Quindi fino adesso tutte le correzioni sul settore oil si sono rivelate a livello di azionario, di titoli azionari, occasioni di acquisto. È più preoccupante invece il futures, perché se dovesse perdere anche il livello di minimo di periodo, che è stato di 71,45 dollari, si aprirebbe uno spazio fino addirittura a 66,35, che sono livelli che non vedevamo dalla seconda metà di dicembre del 2021. In questo caso, secondo me, è l'unico asset finanziario che è condizionato, o comunque contribuisce a questa debolezza, il problema Covid in Cina. Perché comunque la preoccupazione è che la Cina possa, anche se esplode veramente il problema, anche se dovesse rimanere interno, e ce lo auguriamo per non avere una replica purtroppo di quanto è capitato nel recente passato, sicuramente potrebbe consumare meno petrolio e questo è uno dei motivi che stanno spingendo il prezzo del futures a livelli così sacrificati rispetto a pochi mesi fa. Iniziamo a rispondere alle domande dei nostri telespettatori che stanno mandando sms e whatsapp al numero in sovrimpressione 3346643693 e ci ricolleghiamo da subito a quanto detto da te riguardo a Saipem, perché il nostro telespettatore vedendo come sta performando bene Saipem ti chiede un'analisi tecnica di questo titolo e qualche consiglio per rima di entrare. Allora, adesso ovviamente entrare è pericoloso perché il titolo per dare dei riferimenti nella seconda metà di ottobre valeva poco più di 0,63 siamo andati martedì a 1,2285 quindi è un più 100%, anzi oltre il 100% di performance. Di conseguenza un acquisto va sempre effettuato su debolezza. Al momento per come si sta muovendo nelle ultime sedute l'ideale è aspettare almeno un livello compreso tra 1,082 e 1,074 però il problema di movimenti così importanti di recupero è che quando si decide di rientrare anche su una correzione cerco di essere molto chiaro il titolo va in forti per comprato deve scaricare indicatori oscillatori torna leggermente indietro noi compriamo però venendo da rally così, ripeto, significativi bisogna mettere anche degli stop piuttosto stretti per cui personalmente se compro anche a 1,074 non tengo il titolo oltre il minimo di metà dicembre che è stato poco sotto area 1 quindi 0,9926 se non sono capace o non sono abituato a fare questo tipo di operatività in questa fase di mercato preferirei allora aspettare perché gli stop devono essere rigorosi Per quanto riguarda invece Industria Denora il nostro telespettatore Achille chiede qualche consiglio sia per quanto riguarda supporti che resistenze per Industria Denora partiamo però prima da un'analisi tecnica per capire com'è la situazione in questa giornata Industria Denora di breve periodo si sta impostando piuttosto bene perché ha fatto un minimo il 29 dicembre a 14,10 e adesso stiamo cercando di arrivare quasi in area 16 la prima resistenza importante è il massimo del 13 dicembre che è 15,9 successivamente abbiamo un 16,24 massimo del 2 dicembre e poi il livello più importante è il massimo della Shooting Star del 30 di novembre che è 16,55 se il telespettatore è in posizione fa bene a continuare a mantenere se invece vuole comprare aspetterei un ritracciamento almeno per un ritest della media mobile a 100 che è 15,25 se continua a salire e lui ha già il titolo deve lavorare in stop profit nel senso che se il titolo supera 15,90 e domani va magari addirittura sopra 16 il 15,90 è il livello sotto il quale deve uscire dovesse tornare indietro il titolo però l'impostazione tecnica di breve è piuttosto positiva Per quanto riguarda invece il titolo team ieri il titolo team ha chiuso la seduta in rialzo del 3,77% a 0,23 euro sostenuta sicuramente dalle ultime indiscrezioni sulle possibili proposte per sbloccare l'impasto sul dossier della rete unica la novità che ha appunto mandato in fibrillazione i risparmiatori, gli investitori è appunto che il partner potrebbe presentarsi al fianco di Cassa Depositi e Prestiti per lanciare un'offerta su Netco la società che racchiude le infrastrutture di team ne abbiamo detto più volte in queste giornate che le indiscrezioni, le notizie impattano sicuramente sul breve termine, sui titoli e vanno poi a scemare sul lungo termine però forse per team è un po' diverso perché la situazione di team è in bilico da molto tempo tu cosa ne pensi Andrea? Ma allora concordo con quello che tu hai detto però qui c'è da parlare soprattutto di una questione tecnica perché raramente un titolo è così perfetto in base appunto a un movimento di analisi tecnica come è stata team ieri perché è andata a chiudere il gap lasciato aperto il 15 di novembre a 0,233 e poi si è fermata proprio sulla media mobile a 200 0,236 io detengo il titolo nel mio portafoglio di medio e lungo periodo non ho preso profitto ieri ho uno stop profit sotto 0,2256 che è il massimo del 29 di dicembre la questione è ovviamente annosa come ricordavi tu ogni volta ci sono dei tavoli, delle riunioni ma fino adesso non si arriva a nulla è ovvio che la possibilità di un ulteriore rialzo esiste però la società è gravata da debiti talmente alti che sono addirittura superiori al fatturato come ho ribadito più volte anche in questa sede che secondo me bisogna comunque gestirla non nell'attesa di un'operazione straordinaria anche se potrebbe verificarsi ma come un titolo che sta avendo un andamento positivo perché ci sono degli sviluppi potenziali interessanti ma non si vede ancora la luce in fondo al tunnel perché doveva esserci già una chiusura a fine 2022 adesso a metà gennaio c'è un nuovo appuntamento però temo che anche nel prossimo appuntamento non avremo una soluzione definitiva al problema quindi va mantenuta e secondo me gestita in stop profit però è un titolo sicuramente che va seguito perché è molto interessante per gli sviluppi che possono sicuramente accadere di qui a qualche settimana barra mese Continuate a mandare sms e whatsapp al 334-6643-693 Andrea Cartisano, Giotto Celino Sim continuerà a rispondere alle vostre domande Dario D'Amonza chiede notizie per quanto riguarda STM chiede un'analisi tecnica di STM e un livello di entrata Ma STM in questo momento anche se non dovrebbe esistere quantomeno nel lungo periodo la fortuna o la sfortuna per gli investimenti azionari è un titolo sfortunato perché dal mio punto di vista paga l'estrema debolezza del Nasdaq quindi essendoci i titoli tecnologici americani molto deboli ed essendo crollati molti competitor di STM come AMD e NVIDIA ovviamente è molto difficile che STM potesse sottrarsi da una correzione anche importante tant'è che il massimo relativo è stato il 13 di dicembre a 38,56 e il 28 di dicembre siamo andati a 32,77 nonostante gli ottimi dati di bilancio è rimasta in laterale in realtà poche sedute e ieri si è portata addirittura già a 34,75 allora normalmente è meglio soprattutto in una fase di mercato come questa comprare nei pressi di una base accumulativa per cui l'ideale sarebbe stato comprare poco sotto area 33 adesso bisogna secondo me alzare il livello di acquisto poco sotto 33,5 se il titolo scappasse abbiamo un'occasione comunque abbastanza ghiotta dal superamento di tre medie mobili molto ravvicinate per cui una chiusura giornaliera sopra area 35 darebbe subito un potenziale 35,35 ma poi realisticamente un 36,82 massimo del 15 di dicembre e chiusura gap a 37,16 per cui su debolezza comprare poco sotto 33,50 su forza sopra area 35 Andrea, su Milano Finanza di questa mattina alla pagina 2 c'è la notizia che a sorpresa la crisi dei chip è finita o meglio sembrerebbe essere finita a sostenerlo è la Consumer Technology Association che riunisce le principali aziende di elettronica americana e organizza l'annuale fiera tecnologica CES che inizia proprio oggi a Las Vegas secondo te questa notizia quanto può impattare positivamente o negativamente sui titoli che riguardano appunto i semiconduttori chip? Tu sei molto giovane e magari non conosci questa battuta che poi in realtà è stata effettivamente fatta da Tonino Guerra l'ottimismo e il profumo della vita perché comunque per il momento sul mercato questa certezza non esiste tant'è che STM oggi è con volumi veramente bassissimi è in candela inside che vuol dire indecisione estrema sul da farsi io mi auguro che si concretizzi questa ipotesi però per il momento il mercato non ci crede ancora perché logicamente è rimasto scottato da tutto quanto è accaduto nel recente passato sui chip ma soprattutto sulla tecnologia perché sta passando giustamente magari in secondo piano per noi, io parlo per me in primis che ci occupiamo principalmente di mercato italiano anche se sulle MTA International sono negoziabili ma c'è stato un vero e proprio crollo di Tesla in primis ma anche di Amazon, di Apple tutti i titoli tecnologici americani hanno subito delle correzioni molto importanti e quindi nonostante queste affermazioni purtroppo sul mercato non ci sono delle conferme Per quanto riguarda invece il titolo SNAM la società guidata da Stefano Venier ha continuato a salire ieri grazie al warning della vigilia con cui ha rassicurato i mercati imprese e famiglie sulla disponibilità di gas negli stoccaggi italiani Oggi come sta performando il titolo e i nostri spettatori che stanno scrivendo al 334,6643693 ti chiedono un livello di entrata per quanto riguarda SNAM Ma allora oggi purtroppo essendo letteralmente crollati in generale i volumi sul mercato italiano molti titoli soprattutto quelli che ieri hanno fatto rally perché SNAM ha comunque chiuso la seduta più 2,5% sono interessati da candele inside vuol dire in poche parole che l'andamento della seduta è inferiore al massimo di ieri e superiore al minimo di ieri quindi c'è un movimento laterale per un ingresso ovviamente il titolo è uscito dal box di congestione che lo contraddistingueva dal 16 dicembre scorso per cui è area 4,70 4,68 4,70 il livello migliore per un ingresso un target per le prossime sedute potrebbe essere almeno area 4,90 dove transita pochi tics sotto la media mobile a 200 però il movimento di ieri è stato importantissimo perché è stato un breakout di una lateralità che appunto è iniziata lo scorso 16 dicembre andiamo a rispondere invece alla domanda di Riccardo su Portobello chiede un'analisi di questo titolo titolo che non viene chiesto molto spesso però per una volta che viene chiesto direi che è giusto rispondere allora in questo caso il titolo aveva sofferto moltissimo andando addirittura nella seconda metà di ottobre in area 16 poi è iniziato un recupero piuttosto significativo l'accelerazione è iniziata il 2 di dicembre e poi è proseguita fino al 6 di dicembre e parliamo di un titolo che è passato da 19,30 a 29,30 in così poche sedute poi lateralità dal 6 di dicembre fino praticamente a ieri e oggi nuova accelerazione a rialzo con due fattori molto importanti il primo è la rottura dei massimi relativi del 13 di dicembre che erano stati a 30,7 e in più la rottura della trendline ribassista partita dai massimi della seconda metà di maggio del 2021 quindi dal punto di vista tecnico lo spazio per un'ulteriore risalita esiste il target che mi sento di dare è tra 33,8 e 35 è però un titolo che ci ha abituato a momenti di grande volatilità per cui personalmente a un lotto a 150 pezzi suggerirei per chi vuole provare anche se adesso si sta comprando un treno in corsa di utilizzare un controvalore limitato perché le oscillazioni possono essere importanti a rialzo ma anche a ribasso Passiamo ora al titolo Azimut ci viene chiesta un'analisi tecnica di questo titolo il telespettatore la telespettatrice non si è firmato che ha mandato il messaggio a Azimut a 20,60 vorrebbe sapere dove posizionare lo stop picking Sì io lo chiamo stop profit però ovviamente ho tra l'ing stop ma immagino intenda dire quello perché lo stop picking di solito è riferito a una selezione di titoli sui quali entrare anche all'interno per esempio di uno stesso settore nel risparmio gestito abbiamo Azimut Anima Banca Mediolanum Banca Generali io scelgo Azimut con un attento stock picking perché mi sembra che sui fondamentali abbia degli spazi di crescita maggiori qui la situazione è molto particolare perché il titolo ha addirittura due gap molto lontani fortunatamente lasciati aperti uno a 14,36 e un secondo addirittura a 15,33 però al momento siamo ben oltre 21 quindi quello che ci chiede la nostra telespettatrice è come sostanzialmente non trasformare il suo guadagno in una perita di conseguenza io direi per non perdere troppo del guadagno di applicare uno stop profit sotto il minimo del 3 di gennaio di martedì che è 21,15 perché diversamente il titolo potrebbe poi tornare prima a 20,90 e poi a 20,75 e ridursi veramente tantissimo suo guadagno per cui una chiusura giorniera sotto 21,15 dal mio punto di vista imporrebbe un'uscita dal titolo Andrea i telespettatori seguono molto quello che tu dici infatti hanno colto la palla al balzo per fare domande su Amazon l'hai detto tu prima Amazon è in una situazione molto complicata oggi e il telespettatore Bruno vorrebbe avere un po' di chiarezza su quanto sta succedendo ad Amazon e avere anche se possibile una sorta di outlook secondo te del titolo Amazon purtroppo io da alcuni vengo apprezzato ma forse sono di più le persone che mi osteggiano quasi quando parlo in termini non lusinghieri di Warren Buffett qui devo citarlo perché per i comuni mortali e questa mia idea non me la toglierà dalla testa nessuno è fondamentale in borsa il timing cioè se io ho tantissimi soldi e non ho bisogno di avere un rendimento da questi soldi perché comunque vivo lo stesso bene posso comprare oggi vedere cosa farà il titolo fra tre anni cinque anni dieci anni e posso essere d'accordo però se io avessi comprato in piena era covid prima ondata di covid amazon oggi sarei in grandissima difficoltà perché amazon è arrivata praticamente quasi a 190 dollari e adesso che abbia perso ben più del 50% magari è un eccesso però è frutto dal fatto che come una netflix le attività che hanno beneficiato maggiormente dei lockdown purtroppo oggi o per fortuna purtroppo per loro non ne beneficiano più per cui adesso un acquisto su amazon si potrebbe anche fare perché il titolo è pronto per un rimbalzo tecnico che potrebbe arrivare fino a 105 poi in realtà un gap aperto poco sotto 110 a 109 punto 77 però io per come ho timore dei tecnologici americani a costo di subire una beer trap una trappola per orsi lo farei solo se fossi disposto a stopparmi sotto i minimi del 28 di dicembre che sono stati a 81 69 però ovviamente un rimbalzo tecnico anche corposo da questi livelli postarci Andrea ci fermiamo per pochissimi minuti i nostri telespettatori però possono continuare a mandarci sms whatsapp al 334 66 43 693 e tra poco torneremo per rispondere alle vostre domande rimanete con noi bentornate ad analisi tecnica con noi Andrea Cartisano Giotto Cellino Sim continuate a mandare sms e whatsapp al 334 66 43 693 e Andrea Cartisano continuerà a rispondere alle vostre domande Andrea prima della pubblicità del blocco pubblicitario stavamo parlando di Amazon ma tu poco fa hai citato anche Tesla come sta andando questo titolo e anche in questo caso ti chiedono una sorta di outlook per quanto riguarda Tesla sicuramente Tesla il titolo Tesla è stato colpito da Elon Musk e da tutte le sue mosse per quanto riguarda Twitter ma non solo anche per quello che ha detto o non ha detto negli ultimi mesi ma guarda io adoravo nel senso ho adorato e continuo adorare ovviamente Nikola Tesla e se fossi in lui mi rivolterei nella tomba perché non avrei mai permesso che un nome di uno dei più grandi geni della storia mondiale vedesse usurpato da un personaggio come Musk il suo nome appunto io credo che semplicemente Musk sia un grande imprenditore ha avuto delle idee geniali nella sua vita però avesse anche molto la collaborazione del paese USA oggi questo secondo me è venuto molto meno soprattutto da quando ha deciso di comprare Twitter innanzitutto c'è stato un investimento economico mostruoso poi le modalità di gestione della società a molti non sono piaciute perché praticamente tutto il board è stato liquidato senza alcuna spiegazione e soprattutto viene imputato in questo momento a Musk il rischio di trascurare Tesla per stare dietro a Twitter in realtà Tesla nelle ultime sedute è scesa secondo me perché probabilmente come in tutto il resto del mondo ci sono degli insider e qualcuno sapeva già che sarebbe stato deludente il dato uscito pochi giorni fa sulla consegna di nuove auto di conseguenza è un titolo purtroppo molto pericoloso per il breve periodo è su livelli di supporto fondamentali se dovesse perdere anche questi livelli lo spazio di discesa potrebbe arrivare fino ai minimi di metà agosto del 2020 che sono 91 dollari e poi fino a 84.4 e parliamo della prima decada di luglio del 2020 poi se uno compra Tesla oggi e magari la tiene diverse settimane o diversi mesi può sicuramente avere un ritorno economico ma scordiamoci questo è il mio parere i livelli che ha toccato anche solo a fine settembre dello scorso anno sopra 300 dollari perché temo che sia molto difficile poterli rivedere passiamo a rispondere alla domanda di Oscar che chiede un'analisi su Unicredit facciamo un attimo il quadro di Unicredit perché Unicredit ha deciso di riprendere l'attività di pulizia dell'attivo e prepara quindi una nuova cessione di crediti deteriorati che potrebbe concretizzarsi entro la fine di questo mese entro la fine di gennaio questo è quello che risulta quello che riporta MF Milano finanza e a breve il gruppo guidato da Andrea Orcel cederà quindi un portafoglio misto del valore compreso tra 900 milioni e un miliardo di euro questo stock comprenderebbe sia le sofferenze che unlikely to pay e sarebbe finito nel mirino dei principali operatori del settore tra cui anche Prelios Juvalu e InTrump cosa bisogna fare quindi in questo caso per Unicredit è il momento di entrare è il momento di rimanere un attimo a guardare e diamo dei livelli di entrata nel caso ma allora indubbiamente sembrano passati anni luce per quanto riguarda il risultato del titolo Unicredit sul mercato azionario rispetto alla gestione Mustier il consenso che Orsel ha sul mercato è paragonabile l'ho già detto in più occasioni a quello che aveva Marchionne in FCA se devo giudicare da un punto di vista tecnico il titolo ovviamente è fortissimo è uno dei bancari più forti direi il più forte assieme a Banco BPM però è molto tirato tant'è che ha lasciato un gap aperto martedì a 13,916 quindi se fossi rimasto fuori dal titolo dico subito che proprio fino a quel livello assolutamente non comprerei però chi ha il titolo a meno che non lo abbia da dieci anni allora i bancari nel 2007 anzi 15 anni erano a livelli clamorosamente più alti nonostante il rally di periodo deve continuare a mantenere però ci avviciniamo a livelli di resistenza molto importanti direi 14,84 un primo livello di resistenza significativo e poi abbiamo 15,44 quindi se il titolo continua a salire io a meno che non ho dei prezzi d'affezione come si suol dire comunque valuterei anche uno stop profit per chi detiene già il titolo l'importante è che non compri chi è fuori perché rischia di comprare dei massimi di periodo ed è vero che l'impostazione tecnica è molto molto positiva però in via teorica potrebbe anche oltre che chiudere il gap tornare fino in area 3 e 12 3 e 20 circa per cui è eccezionale l'impostazione tecnica ma il titolo è molto molto tirato per quanto riguarda invece Tamburi Alessandro da Castellarano chiede due punti di ingresso per questo titolo Tamburi piace moltissimo agli investitori perché quando si compra Tamburi è come comprare una holding che detiene partecipazioni in società quotate e non quotate e ovviamente Tamburi è riconosciuto anche da me come un remita per cui è normale che visto quello che è stato capace di fare negli anni ogni volta che il titolo ha una correzione si ha la tentazione di acquistarlo il problema per Tamburi qual è che ovviamente nel portafoglio di partecipazioni ci sono molti titoli che nel 2022 hanno sofferto tantissimo come performance e c'è il problema Italy che è stato comunque un investimento che fino a questo momento ha causato purtroppo solo delle perdite alla holding dopo un minimo il 13 di ottobre a 6,26 ha avuto un rimbalzo molto importante fino a 7,75 per sfortuna non è riuscita mai di periodo dobbiamo tornare a aprile dello scorso anno a superare la media mobile a 200 che oggi transita per 7,72 il livello ideale per un ingresso è ovviamente rappresentato dall'area di minimi della seconda metà di dicembre per cui area 7,10 se dovesse tornare su questi livelli sicuramente comprerei però se ha chiesto due livelli il primo 7,10,7 il secondo sui minimi del 21 di ottobre che sono stati a 6,74 Passiamo ora a Nexi Franco il nostro telespettatore che ha scritto al 334 66 436 93 a Nexi in carico a 7,6 e vuole un parere un tuo parere Beh devo dire devo fare i complimenti a Franco perché Nexi molti purtroppo ce l'hanno in carico a prezzi ben più alti 7,60 tutto sommato un prezzo molto buono io trovo incredibile alla luce di quello di quanto poi è accaduto come Nexi sia riuscita ad arrivare a massimi storici nella prima decada di luglio superiori a 19 euro per azione ha toccato nel frattempo a metà giugno nuovi minimi storici a 7,146 per cui lui ha comprato non così distante dai minimi storici di conseguenza proverei a mantenere il titolo mi darei uno stop sotto area 7,30 se vuole essere rigoroso se non può aspettare anche i massimi e i minimi storici appunto di 7,146 perché lo spazio di risalita è almeno fino a 8,16 massimo del 13 di dicembre e poi tutte le medie mobili in sequenza 8,224 quella 50 8,40 quella 100 8,63 8,200 però una cosa importante è da chiarire subito scordiamoci i livelli di massimi storici toccati da Nexi perché la società è gravata da un debito superiore ai 5 miliardi di euro e nel 2022 o meglio ancora nel 2021 non era un problema oggi con la curva di tassi in aumento avere più di 5 miliardi di euro di debiti è un fardello quasi insostenibile per garantire delle performance come quelle avute in passato continuate a mandarci sms whatsapp al 334 66 436 93 Andrea Cartisano continuerà a rispondere alle vostre domande una delle domande che è arrivata appunto in redazione riguarda Stellantis chiedono un'analisi tecnica del titolo e io aggiungo che Stellantis è pronta a produrre veivoli elettrici investirà infatti 150 milioni per salire nel capitale dell'americana Narker ricordiamo che la casa è già socia al 4,8% di questa start-up californiana ma comunque punta a diventare azionista di riferimento anche attraverso acquisti di azioni sul mercato l'obiettivo di Tavares è quindi fabbricare in serie mini elicotteri elettrici sulla base di un contratto in esclusiva come sta andando oggi il titolo Stellantis ma allora oggi la seduta è abbastanza in colore però ieri c'è stato un bel rally perché il titolo è cresciuto del 2,65% io credo che Stellantis stia effettuando un rimbalzo dopo aver creato una bella base accumulativa poco sopra area 13 c'è un ulteriore spazio di risalita però non credo anche nell'ipotesi migliore che per il breve periodo di qui a qualche seduta qualche settimana possa andare oltre il doppio massimo sporco del 17 di agosto dello scorso anno e del primo di dicembre di quest'anno che è area 15,10 però fino a quel livello si può portare non mi spiego come il mercato abbia quasi omesso di vedere che le vendite di nuove auto soprattutto in Europa sono state per Stellantis quasi disastrose perché ha fatto ben peggio nel mercato in ogni rilevazione mensile e di conseguenza a fine anno ha perso un'importante quota del mercato che aveva però tecnicamente può ancora risalire per chi ha preso posizione nelle ultime sedute lavorerei in stop profit al momento lo metterei in caso di ritorno sotto la media mobile a 50 13,97 se dovesse continuare a salire me lo alzerò di volta in volta Passiamo ora a Banco BPM la situazione tecnica di Banco BPM è positiva ma il nostro telespettatore Alberto da Milano chiede se sei d'accordo con quanto detto da lui e quindi se gli dai anche poi un consiglio lui sostiene che Banco BPM sia in evidente ipercomprato e vada sciortato pesantemente concordi con quanto detto da Alberto? Devo dire grande Alberto ma per un semplice motivo perché normalmente quando c'è una situazione di mercato come questa Fari Contrarian ti espone sempre a tante critiche sei proprio la pecora nera del gruppo riguardo al fatto che sia in fortissimo ipercomprato gli do ragione però al momento sciorterebbe come ho detto come ho detto in un'altra occasione nella puntata di oggi un treno in corsa cosa significa che concettualmente l'operazione ci sta però è un'operazione completamente contromercato se la facesse in questo momento anticiperebbe un movimento di correzione che poi sarebbe un consolidamento appunto da ipercomprato lo può fare solo se ha uno stop rigoroso sopra il massimo del 15 di febbraio dello scorso anno che è 3,762 se volesse invece aspettare il timing più corretto nel senso che ci sarebbe sicuramente un segnale di debolezza più evidente che adesso purtroppo non vediamo nell'ottica sua ovviamente che vuole andare short ovvero la chiusura del gap lasciato aperto il 3 di gennaio martedì a 3,518 se il titolo chiudesse il gap e dovesse iniziare a correggere allora sarebbe più diciamo corretto aprire una posizione short fino almeno ai minimi della fine di dicembre che sono stati il 28 a 3,318 però può anticipare il rischio è notevole se si dà però uno stop sotto 3,762 può comunque riuscire a fare l'operazione che vantaggio ha che se short a oggi va a chiudere il gap e poi riparte può chiudersi comunque in guadagno però un'operazione pericolosa e solo per tradere esperti passiamo ora al settore del lusso e andiamo a parlare di Ferragamo il nostro telespettatore che ha scritto al 334 6643693 chiede un ingresso su Ferragamo un supporto e una resistenza lui ha comunque Ferragamo in incarico a 17,23 allora il supporto è più in basso perché parliamo più o meno di 16,30 16,40 la media mobile a 50 transita a 16,43 la sua posizione non è malvagia perché è vero che è superiore il suo prezzo medio di carico a quanto vale attualmente il titolo però l'impostazione tecnica nonostante diversi downgrade oggi sul settore lusso il più diciamo importante è quello su Moncler però il target price è stato tagliato poi di 2 euro da 62 a 60 da Citigroup io credo che Ferragamo possa proseguire a rialzo almeno fino a 17,74 17,78 se dovesse superare il 17,78 può andare fino a 18,20 il mio consiglio quindi per il telespettatore di mantenere la posizione almeno fino a quest'area di resistenza statica se non dovesse superarla allora gli consiglierei a quel punto di uscire dal titolo Andrea andiamo a parlare ora di A2A perché chiedono dei consigli per quanto riguarda questo titolo cosa ne pensi del titolo il telespettatore o la telespettatrice ne ha un certo volume in carico a 1,55 chiede qualche consiglio su come muoversi se mantenere oppure uscire ma soprattutto chiede il titolo che prospettive ha nel medio lungo termine allora non se ne abbia male però se avesse applicato correttamente uno stop loss sarebbe dovuto uscire dal titolo il 9 di giugno dello scorso anno perché c'è stata una rottura tecnica molto importante l'uscita sarebbe stata a 1,476 se avesse chiuso al termine della giornata e si sarebbe evitato tutto il ribasso che addirittura è arrivato fino al minimo del 13 di ottobre a 0,9404 adesso la situazione è ben diversa fortunatamente siamo tornati fino in area 1,30 però siamo proprio sulla resistenza statica della media mobile a 200 1,302 quindi superato questo livello abbiamo un primo target sul massimo della congestione di breve che è il massimo del 5 di dicembre 1,3385 poi si aprono spazi di risalita almeno fino a 1,3735 massimo del 13 di giugno e quello che può interessare allo spettatore è la chiusura del gap lasciato aperto il 9 di giugno a 1,4755 cosa intendo dire che può tornare vicino ai suoi prezzi medi di carico però non si sarebbe dovuto trovare in questa situazione comunque lo spazio di risalita c'è se però non dovesse andare oltre questi livelli siccome ha visto con tutto rispetto la morte in faccia magari poco sotto area 1,50 chiuda anche in leggera parita la posizione Andrea una domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi nei giorni scorsi essendo questa la prima settimana del 2023 un consiglio secondo te su quali settori bisogna puntare in portafoglio nel 2023 allora io non so ovviamente cosa hanno risposto i miei colleghi perché di giorno faccio trading e quando riesco vi ascolto in cuffia ma certe volte in giornate come ieri l'altro ieri dove il mercato si muove molto devo purtroppo fare come tutti sanno il manovale però devo dire che il 2023 secondo me sarà condizionato dall'operato delle banche centrali per cui tutto dipenderà da come si muoveranno le banche centrali se continueranno la politica di rialzo dei tassi di interesse sicuramente il settore che continuerà a fare bene sarà il settore bancario dal momento in cui invece questo dovesse venire meno e non serve perché la Fed ha già detto che nel 2023 non taglierà i tassi di interesse ma anche solo un rallentamento nell'entità dell'aumento dei tassi o addirittura uno stop nell'aumentare i tassi potrà ritornare ad essere molto favorevole per le utilities perché le utilities sono gravate da debiti mostruosi e nel ormai è sopra i 70 miliardi di Euro quindi se c'è la percezione da parte del mercato che i tassi di interesse tornano a essere sotto controllo potrebbe esserci una riscoperta delle utilities per cui i due macro temi sono settore bancario e utilities prima parte dell'anno direi più favorevole alle banche seconda parte dell'anno all'utilities Andrea io ti ringrazio per essere stato con noi per aver risposto alle tante domande che sono arrivate al 3346643693 Andrea Cartisano Giotto Cellino Sim grazie caro saluto a tutti io ringrazio anche tutti i nostri telespettatori che sono stati in nostra compagnia l'appuntamento vi ricordo è domani sempre qui alle 11 con analisi tecnica ma rimanete con noi anche durante tutta la giornata di oggi per gli aggiornamenti a domani grazie grazie